Non puniteci per colpe che non abbiamo, va bene la predisposizione di misure di sicurezza, dicono a Barletta i gestori di attività di ristorazione, Bar e American Bar, ma non possiamo essere sanzionati per le violazioni commesse dai clienti. Il problema viene sollevato dalla neonata associazione Bar Bistro Club Pugliesi. Se venisse accertata la trasgressione delle normative anticontagio, evidenziano i suoi promotori, gli esercenti non avrebbero alcun potere di farle rispettare, né potrebbero costringere i clienti ad indossare le mascherine o a spostarsi sul suolo pubblico per evitare assembramenti. Con il paradosso concludono che la denuncia alle autorità potrebbe comportare la chiusura del locale. Noi chiediamo che tutti i gestori di locali, come dici tu, vengano tutelati e lanciamo un appello proprio ai nostri clienti, agli avventori, a tutta la gente a non assembrarsi, a prescindere che sia all'esterno dei locali o all'interno dei locali, a non assembrarsi perché il momento è molto molto particolare. Quindi noi chiediamo che ci venga data una mano anche da parte dei clienti, oltre poi alla chiarezza delle regole, che noi stiamo cercando di rispettare a 360 gradi. Anche i militari dell'esercito vigileranno sul regolare svolgimento della movida serale, una soluzione non auspicata, dicono gli esercenti, ma evidentemente necessaria. Diciamo che l'esercito forse non sarebbe la soluzione ideale, però purtroppo credo che in questo momento insomma serva anche questo, perché non siamo pronti ad affrontare, non riusciamo ad abituarci a questa situazione. Quindi sicuramente ben venga in questo momento e sarebbe stato meglio evitarlo. Oltre a complicare l'attività lavorativa, l'adeguamento alle normative anticontagio, concludono gli esercenti, comporterà una pesante riduzione dei fatturati. Sicuramente in termini di fatturato abbiamo perso la previsione di perdere il 70% circa, considerando che noi lavoriamo anche con serate, quindi l'emblema dell'aggregazione. Quindi in termini di fatturato siamo intorno al 70-75%. Per ciò che riguarda le regole, come dicevi tu, si fa fatica, noi ci stiamo organizzando con menù usaggetti in questo momento per poi approdare al menù digitale e quello che chiediamo alla gente è appunto di prenotare in qualsiasi caso, anche se si tratti di un solo caffè, per darci possibilità di organizzarci al meglio. Il problema principale rimane quello del distanziamento sostanzialmente? Sì, questo è un grande problema perché ovviamente ci assumiamo noi la responsabilità poi di controllare ed è veramente molto molto difficile perché non riusciamo a stabilire se la gente effettivamente vive sotto lo stesso tetto o meno, quindi noi cerchiamo comunque di mantenere il distanziamento sociale, di organizzare i tavoli dando il distanziamento sociale, ecco perché poi la gente che ci deve aiutare ci deve dare una mano.